Giorni insieme a me Fugge dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà. Fugge dai tuoi ma. Fugge dai tuoi ma, soltanto ieri, finalmente ho capito dalle grinzie avide dei mercenari acquattati in ogni dove al soldo di invadenti multinazionali, i tempi ed i modi per una voluta prigionia ed ho serrato le porte nell'attesa di muovermi verso i templi delle mie origini culturali. Metaforicamente, praticamente, completamente. L'assalto continuo, attraverso proposte indicanti modi d'essere adeguati agli inutili prodotti che i padroni universali del commercio e dei servizi inviano a pioggia di grappoli dai contorni impalpabili, come foschia estiva di primo mattino, assume virulenze epidermiche. Una volta giunta a contatto con le blandi aspirazioni di tranquillità e di serena assoefazione al ritmo quotidiano proprie di esistenze vissute senza sprechi e prive di inutili orpelli, semplici, essenziali, autonome. Le menzogne ballerine, create ad immagine di lusinghe dai loro maghi prezzolati, saltellano allegramente ben oltre ogni perdonabile entusiasmo, frattanto che abbattono ostacoli a forma di evanescenti birilli e ideologie di carta straccia, male o per niente sopportate da nervose manovre atte a ripristinare condivisibili pretese di libertà individuali, senza ritrosie, in ragione della forza amorale ricevuta dalle loro strutture interdipendenti, superano con vigliacca disinvoltura gli specifici spessori delle singole vite incontrate lungo le vie che percorrono. Pag. 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 Quando avevo vent'anni non ho lasciato mio padre, lui ne aveva cinquanta. Come graffia su specchie, stridente, gelante, sfriggiante. Quando avevo altri anni ho lasciato la madre, lei non so. Come giancio al labbro studisce, tradisce, scurisce. Quando avevo due anni ho lasciato mio figlio, lui era grande. Come bruco graffrane, intanato, stordito, immoto. In questo giorno d'Afa ho lasciato la mia immagine, lei non lo capirà. Ma tu lisciami, e fasciami, e abbracciami, e stringimi, e scobrimi, e coprimi. E... 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 Ignorami. E... E... Forgerli, favo l'ottosa. Io vivo da sempre. E... E... fosse una mamma mia, vero o no? No, 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 no. Mentre srodola piacevolezze esistenziali e frammiste ad essenziali bisogni cognitivi ed impellenti necessità comunicative. Essa la falsa dignità universale, quella degli uomini invisibili oltre le cortine delle organizzazioni finanziarie, quella degli innominabili padroni del vizio e della schiavitù dei deboli, quella dei tizi in doppio petto, sprolonquianti in pubblico, senza cuori brucianti all'interno del torace per giustizia ed uguaglianza, quella di tutti gli uomini animali, da se stessi assurti a mortificanti autoglorificazione, quella dei nuovi dèi, meschini e blasfemi. Essa, la falsa dignità universale, accaparra tutto intero, senza pentimenti l'indivisibile legame tra le vite e di singoli uomini. Non ero convinto che fosse sufficiente, ma limitare il raggio di azione dei miei giorni futuri nel perimetro orto compreso di questa vecchia casa colonica mi era apparso il sistema più agevole per pertentare la metempsicosi spirituale che intendevo costruire tra il mio passato ed il mio futuro. Grazie a tutti. Non c'è più sogno nel mio destino. Ucciderete la morte come un chiodo amico. Il riccio non piondo nel fumo, dobbio rio dei paesi trubitani. Accenderete la vita come un baglione. Un guizzo di 70 corallo di Ginter Reduce. Nella mia vita è il sogno. Nella mia morte è il dubbio. Viene aggiunto qui, attratto come da una calamita, stordito come da un etere, ciondolando come un ubriaco, il capochino come un cane, le braccia pendule come una scimmia, gli occhi fissi come un ebete. Ho raggiunto la scala di comunicazione tra il piano terra e gli ambienti sottostanti. Cantina, dispensa, lavanderia, chiesa, fino alla vecchia biblioteca. Ho respirato forte per riempirmi di ricordi. Ho accarezzato la polvere dei libri dalla cultura universale. Ho chiuso gli occhi, ho stretto i pugni per non piangere. Ho espresso un desiderio, una esigenza, una ragione di vita. Ho iniziato a scrivere il mio manifesto della pace che vi propongo nella sua interezza e vi invito a sottoscrivere. La mia personale militanza tra coloro che hanno difesa la ferma determinazione di dichiararsi pacifisti quando ancora erano gli anni in cui la polizia ci inseguiva qualificandoci sovversivi e caricavano i cellulari arandellati manifestanti meno lesti nel fuggire. Bologna, settembre 1963, aprile 1964. Ritengo possa rappresentare un esplicito e doveroso chiarimento atto a consentirmi di precisare senza generare equivoci che noi, uomini e donne d'arte e di cultura, aderenti a questo manifesto, non intendiamo assumere mai il ruolo di storiografi, sociologi o di specialisti in altre discipline tese a classificare eventi ed a chiarirne genesi, cause ed effetti. E che noi non inventiamo neppure presentarci nella veste di un gruppo più o meno politicizzato per il quale esistano i sempre nel giusto e di sempre malvagi. E che noi, infine, non ci proponiamo questo può sembrare un paradosso nemmeno come portatori di nostre personalità semplicemente umane alle quali comunque potrebbero indurci in errori invogliandoci per debolezza a giustificare oppure per vendetta a punire. No. 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 Noi sottoscrittori di questo manifesto siamo presenti sulla scena sociale come artisti e agiamo per invitare a creare da godere anche i nobili sentimenti e le intime emozioni indotte dalla parola la pace la quale, sebbene celebrata in mille, mille modi diversi non consentiremo mai che venga scritta con la penna di un solo colore. Scegliere tra rosso e nero può andare bene in un gioco stupido come la roulette ma l'arte ha altre iniezioni l'arte è rosso, nero, giallo verde arte sono i grigi delle nebbie le variazioni d'Indaco dei mari le terre di Siena i viola l'arte ha diritti e cittadinanza forza e bellezza sebbene espressa e scritta con qualsiasi colore dell'arcobaleno ma ciò non basta definire del tutto gli ideali che si intendono proporre con questo manifesto poiché noi crediamo con un'uguale grande fermezza che la parola pace non sia soltanto in antitesi in contrasto l'opposto della parola guerra non possa esprimere una forza di resistenza ineguagliabile nei confronti di altre iatture di tutte le reali nefandezze perpetrate da parti infime ed infide del genere umano razzismo mafia speculazioni di ogni tipo abusi di potere sono tutte guerre contro le quali gli artisti innalzano lo standardo della pace così come abbiamo affermato che gli inchiostri di tutti i colori sono adatti a scrivere la parola pace nello stesso modo e con identica determinazione garantiamo che combatteremo e contrasteremo con ogni mezzo non violento come abbiamo sempre fatto tutti coloro che hanno voluto vogliono o vorranno intingere le penne d'oca utilizzate per la scrittura della parola pace in calamai pieni delle lacrime dei popoli affamati oppressi schiavizzati così come nel sangue innocente dei morti sul lavoro o s seguite Grazie a tutti